la luna viene illuminata dal sole e nel corso della sua rivoluzione attorno alla terra presenta una porzione illuminata più o meno ampia che dipende dalle posizioni reciproche di terra luna e sole i diversi aspetti del nostro satellite sono detti fasi lunari nel 9 lunio la luna si trova tra il sole e la terra e non appare visibile perché ci mostra la faccia completamente in ombra dopo circa sette giorni nella fase del primo quarto la luna mostra metà della superficie illuminata la parte gibbosa illuminata continua a crescere luna crescente fino alla fase di luna piena quando si trova rispetto alla terra dalla parte opposta al sole e mostra quindi l'intera superficie illuminata da questo momento in poi la luna è calante nell'ultimo quarto a 22 giorni dall'inizio del ciclo la luna mostra ancora metà della superficie illuminata e dopo una settimana si ha nuovamente il 9 lunio il ciclo delle fasi lunari si ripete ogni 29 giorni durata di tempo che costituisce il mese lunare che cosi per il ciclo delle fasi lunari sì per il ciclo delle fasi lunari si ripete ogni